presentato questa mattina a Pescara da Asso Nautica e da tutti i circoli partecipanti l'evento nazionale denominato 10.000 vele contro la violenza sulle donne cambiamo rotta insieme il grande flash mob nazionale della nautica italiana promosso dall'associazione di promozione sociale 10.000 vele di solidarietà di la spezia che vede la partecipazione della quasi totalità dei circoli e associazioni nautiche porti e approdi turistici pescaresi e abruzzesi l'evento si svolgerà in contemporanea in tutta la penisola italiana domenica 4 luglio dalle 11 alle 12 da tutti i porti costieri e dai laghi usciranno in mare contemporaneamente imbarcazioni innatanti a vela motore catamarani e canoe issando un nastro rosso come segno convenzionale per dire stop ad ogni forma di violenza sulle donne un evento nazionale che si svolgerà in contemporanea lungo tutte le coste italiane imbarcazioni a vela motore catamarani cannottieri usciranno issando un nastro rosso l'astronautica di pescara ha solo voluto mettere a sistema tutte le associazioni circoli i porti gli approdi turistici non solo di pescara ma di tutta l'abruzzo che avevano comunque aderito in maniera entusiastica anche spontaneamente anche volontariamente il lavoro di assonautica è stato quello di valorizzare questa questa presenza e il valore di questa manifestazione simbolica e ancora una volta utilizziamo il mare la nautica ma soprattutto la vela in quanto anche un simbolo di di team che non guarda età non guarda sesso non guarda differenze di di ceto ma tutti quanti insieme nella barca vela si lavora individualmente ma collettivamente per raggiungere l'obiettivo e l'obiettivo è quello appunto di sensibilizzare per porre un fine a questa a questo crimine a questo flaggello del mondiale come l'ha definito l'ONU che è la violenza contro le donne che non è solo quella fisica ma anche di tutte le altre forme